Allora amici, buon dia a tutti, ancora il 29 di giugno dunque è anche almeno Mastic però è vero che è una giornata bella, ma è anche un po' brutta perché ieri ho scoperto che mi hanno grattato la bicicletta e dunque, insomma, è un po' una dislipa una disgrazia bella grande Allora, adesso andrei a girare per i vari venditori di bicicletta che nel Mareun per vedere se entriva una, magari, un po' veglia che la costa poco per poi tirare su un po' di danne e cercare una più bella più nuova e più forte dunque, su chi che giri come pantula per le strade del mio quartiere e speri di trovare una perché vogliamo girare un paio di negozi e trovare una cosa e, insomma, va bene anche perché a casa mia mi sono un po' inrabbi perché un po' è stata anche colpa mia perché pensavo a rubare la bicicletta perché l'ho lasciata in un sito per un qualche giorno allora, insomma, l'era anche quasi scontata che mi la rubavano, mandi ma mi resti un po' di più senza responsabilità perché mi pensi, no? che mi pensi che la colpa è sempre del lader però, insomma, il fatto è che adesso non è senza bicicletta e allora potrei trovare una soluzione ciao a tutti se vedo prest buona giornata e stia attenta alla vostra bicicletta ciao